Ciao amici! Cosa dareste per dimagrire in modo facile e veloce? Io mi vendo squaletto! No poverino, puoi fare di meglio! Oggi vi svelo 7 trucchi per dimagrire in modo naturale, senza diete private, senza esercizi complicati o strane bevande miracolose. Ma dai! Tutto vero, dimostrato dalla scienza. Se vi piace l'idea mettete un bel mi piace, tanti mi piace, tanti nuovi video. Vediamo ora i 7 trucchi più efficaci per dimagrire. 1. Acqua e limone. Bere acqua tiepida e limone al mattino attiva il metabolismo e risveglia il potere bruciagrassi. In più riduce il bisogno di caffè, zucchero e altri cibi nemici della linea. Il merito è soprattutto dell'apporto corretto di vitamina C, che secondo l'American Journal of Clinical Nutrition aiuta a bruciare il 30% in più di grassi. 2. Tè verde. Potete sostituire caffè e altre bevande stimolanti con il tè verde. Il tè verde contiene catechine, dei potenti antiossidanti in grado di favorire il dimagrimento se si è in sovrappeso e il mantenimento del peso ideale una volta dimagriti. Tè... sì! È uscito sull'International Journal of Obesity. 3. Dormire bene. Dormire in media 7-8 ore per notte aiuta a non ingrassare. Uno studio della Quebec Family Study Canada ha scoperto la correlazione tra sonno e dimagrimento. Dormire solo 5-6 ore aumenta del 35% le chance di ingrassare fino a 5 chili, ma anche dormire troppo 9-10 ore le aumenta del 25%. Meglio dormire il giusto. 4. Bere acqua. Bere acqua per dimagrire? Sì, secondo l'American Journal of Clinical Nutrition. Già solo sostituire bibite confezionate e succhi di frutta con acqua fa dimagrire del 2-3% in più in soli 6 mesi. Bere da 8 a 10 bicchieri di acqua al giorno aiuta a bruciare i grassi e a depurare l'organismo. 5. Aceto di mele. Secondo uno studio del 2008, l'aceto di mele aiuta a ridurre il colesterolo cattivo LDL e favorisce invece quello HDL buono. Per sapere come berlo, guardate questo video. 6. Dieta sana. Seguire una dieta sana è la soluzione più pratica per dimagrire. Ma come? Devo rinunciare a questo e a quello? In realtà bisogna mangiare consapevole. Non si tratta di rinunciare, ma di scegliere le varianti sane dei cibi che ci piacciono. Pane integrale a lievitazione naturale, pasta integrale invece di pane e pasta bianca, proteine magre o veg invece di carni rosse e salumi, verdure crude e cotte come contorni, frutta secca invece di patatine o snack industriali. Già solo facendo questo si riduce lo sforzo e si ottengono risultati per dimagrire. 7. Esercizio. Ovviamente per perdere peso il corpo si deve muovere e fare esercizio ogni giorno è fondamentale, cioè mi devo ammazzare di palestra ogni giorno? Ammazzarsi non serve, basta fare attività moderata, camminata a passo svelto, corsa leggera, ginnastica dolce, nuoto lento, tennis, quello che vi piace. Più dell'intensità conta la costanza come dimostra una statistica pubblicata sulla rivista Nature. I programmi di dimagrimento che includono esercizio fisico producono risultati migliori e più in fretta delle diete da sole e voi avete una possibilità in più. Per sapere come mangiare bene e bruciare i grassi ogni giorno basta andare sulla home del mio canale e trovate tutti i video che vi servono. Iscrivetevi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia bene e dimagrisci naturalmente. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Ciao! Ciao!